Buonasera dalla Nazione.it a tutti i navigatori di internet, dunque stasera è la grande notte della Fiorentina, l'esordio a Lione in Champions League non privo di difficoltà, sarà un test fondamentale per capire la tenuta tecnica, atletica e di nervi della squadra nella massima competizione europea. Ma in queste ore, proprio di attesa della partita, c'è un'altra notizia che viene da Firenze e che è di fondamentale importanza per il futuro della società. Il 24 settembre prossimo è convocato un consiglio di amministrazione straordinario al quale parteciperanno i fratelli della Valle, proprietari della Fiorentina, in cui saranno decise nuove nomine della gestione societaria e sportiva. È un appuntamento di grandissima importanza anche perché seguirà di tre giorni il consiglio comunale in cui si discuterà di nuovo stadio e Cittadella. Direi che senza un bravo dubbio gli ultimi giorni di settembre saranno decisivi per i prossimi anni della Fiorentina. Grazie e buonasera a voi.